Sono arrivati la scorsa settimana, all'incirca sono 7 migranti di cui 4 hanno abbandonato quasi immediatamente la struttura, 3 invece soltanto nella giornata di ieri, tra l'altro giornate in cui sono arrivati anche gli esiti dei tamponi effettuati, fortunatamente negativi, però il tema non è la positività o la negatività del tampone, il tema è il rispetto di quelli che sono i protocolli e le prescrizioni per l'appunto del periodo di quarantena, cioè di 14 giorni perso la struttura. Queste persone sono state ritrovate? No, assolutamente no, tra l'altro sono 7 persone di origine tunisina, la storia di quel paese dice che è fortemente legata alla Francia e quindi è ipoteticamente pensabile supporre che avranno voluto raggiungere la Francia, però ovviamente siamo soltanto nel campo delle ipotesi e ovviamente sarà difficilissimo per non dire impossibile rintracciarli. Per cui insomma quello che si è chiesto con forza è per l'appunto che incontri per la democrazia che è l'associazione sostanzialmente che gestisce il centro di prima accoglienza di Cartoceto si faccia carico soprattutto della responsabilità del rispetto delle protocolle e delle prescrizioni in tema Covid. La polizia locale di Cartoceto può collaborare con il centro? Assolutamente sì, abbiamo dato la massima disponibilità così come le forze dell'ordine, ringrazio tra l'altro la prefettura di aver convocato questa riunione questa mattina, ma il tema è che incontri per la democrazia si doti di personale preposto alla vigilanza e al controllo ai fini del rispetto dei 14 giorni di quarantena, al di là di quelle che sono le figure su cui possono contare dei mediatori linguistici o culturali. Questa sera ne arriveranno altri dimigranti, è così? Ne arriveranno altri otto, di questi otto tre sono mamme con minori e l'altra questione che ho già segnalato alla prefettura, domattina lo farò anche in maniera ufficiale con una relazione dell'assistente sociale, è che parliamo di un centro di una struttura assolutamente inadeguata e inadatta ad ospitare minori, lo dico sia da un punto di vista delle condizioni igienico-sanitarie, sia per situazioni di disagio che possono venire a crearsi, per quella che è la promiscuità di abitazione tra ovviamente le mamme con minori e soggetti invece maschili adulti.